Grazie 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 La prima volta! Aiuto! 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 Pintu! Pintu! Guardamolo! Chi è che va verso la pallet? Chi è che va verso la pallet? Chi è che è che è che la pallet? Scusate te la ricordi eh? Qua non la tocca in giro Sbocco Te l'armi tu? Eh lo spogliatore è quello in fondo Sbocco eh Tuggerlo Sbocco Fappertino Tuggerlo Cosa Sbocco Cosa Sbocco 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 Oh! Un bel gioco! Non si può! Non lo so! No! 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 Siamo! 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 No! Non ci fuori! C'è un nuovo gioco! E' buona! E' buona! Bravi, bravi cazzo! Tanto difficile! Furcì sicherio! Abbi! Vovforo noi! Bravi! Bravi, bravi! il film è un'altra parte della città non c'è la palla ma è rimasto come si puntano Genni buono Gennà bravo Gennà bravo Genni Vabbè ci mancano 18 punti E ormai fa Quanti tiri? E3 Vabbè si vengono Va a dire, va a dire 2 24 stanno iniziando la porta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19